Aggiornamento di Sheldani del Per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 20 luglio 2010. Selamatierin. Torniamo con altri argomenti da condividere con voi. Le difficoltà, che affliggono il sistema bancario dell'Unione Europea continuano ad aumentare. Questo scenario poco rassicurante è solo un piccolo anticipo rispetto a quello che accadrà. Una quantità enorme di derivati, obbligazioni ed altri strumenti finanziari sono prossimi alla scadenza, e sembra che non esistano soluzioni in grado di evitare il caos che creeranno. Situazioni simili sono presenti anche in altre parti del mondo. La cabala oscura comincia a rendersi conto, che non può continuare a mentire su queste cose, e che dovrà inventarsi qualcosa di nuovo e in tempi brevi. Nel frattempo, i nostri alleati terrestri, al manifestarsi di questi grossi problemi finanziari, saranno pronti a presentare e ad introdurre un nuovo sistema finanziario. Inoltre, il sostegno degli oscuri sulle monete mondiali sta venendo a mancare. L'euro, il dollaro e lo yen sono in difficoltà, e i scenari apocalittici sono già evidenti in Cina, India e Medio Oriente. Qualcosa deve cambiare, e questo qualcosa dovrà essere il superamento del trattato di Dumbertono AKS, per rendere possibile l'indispensabile e immediata introduzione di un nuovo sistema. La cabala oscura continua ad opporsi con fermezza a questo cambiamento. I negoziati tra il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti e diverse banche centrali hanno determinato questa come l'unica vera opzione. La riforma del dollaro è una mossa, che il Tesoro degli Stati Uniti si rifiuta di affrontare pubblicamente, ma formalmente non è così. Il dollaro e la Federal Reserve Bank necessitano di una urgente revisione, essendo il valore del dollaro determinato dallo stato fallimentare della Federal Reserve Bank. Questa situazione sta creando in Europa e in Giappone la necessità di trovare un nuovo riferimento monetario per Euro e Yen. Una nuova equazione, che preveda una moneta di riferimento garantita da riserve in metalli preziosi, insieme a nuove norme di condotta internazionali da estendere all'intero sistema bancario. Per gli Stati Uniti e per i banchieri di Wall Street sarà un boccone amaro da ingoiare. Mentre la crisi peggiora i nostri alleati terrestri continuano a spiegare ai cabalisti oscuri, che la soluzione migliore consiste nella consentire l'introduzione del nuovo sistema, introdotto e gestito dai nostri alleati terrestri. Questa è la pillola amara, che gli oscuri potrebbero essere costretti ad ingoiare, ma nel frattempo proseguono nelle loro azioni, facendo tutto il possibile per evitare la dura sentenza, che presto sarà di fatto inevitabile. La pressione dell'opinione pubblica della maggior parte delle nazioni del mondo sta mettendo in difficoltà i governi dell'Occidente. I segnali di crescita stanno calando velocemente. Ogni nazione sviluppata sta accusando gli effetti prodotti dalla disoccupazione, dalla sfiducia dei consumatori o dalla debolezza della propria moneta, questo indica chiaramente che il sistema mostra i segnali di un crollo imminente. Abbiamo visto molti esperti del vostro mondo prospettare come possibile una nuova crisi economica. Questi discorsi fatti dai servitori degli oscuri sono nauseanti, e non fanno altro che rendere l'utilizzo della pillola amara, lo scenario più probabile. Per questo motivo, i nostri alleati terrestri sono impegnati nel valutare l'intrecata situazione del vostro vecchio sistema finanziario per raggirare gli ostacoli attuali. Il loro obiettivo consiste nell'imporre un nuovo sistema finanziario e nel rimuovere i governi, che sostengono il vecchio sistema ad esempio, il regime delle grandi compagnie americane, che stanno cercando in tutti i modi di salvare il sistema di Dumbarton o AKS dal collasso. Questa situazione è vicina a un punto critico, con le compagnie americane, che fanno acqua, e che vedono all'orizzonte l'enorme onda dei debiti, che si riverserà rovinosamente sulle loro già precarie situazioni. La fine del dollaro è vicina. La vostra società globale deve fare i conti con un altro fronte difficile da fronteggiare la natura Gaia. Lo sviluppo della vostra società ha creato negli ultimi duecento anni una espansione, che si è estesa in modo incontrollato. Quella che si è creata è una bolla, che prima o poi dovrà esplodere. Un primo ammonimento lo avevano dato i movimenti ecologisti già nel 1970, notammo con piacere, che alcuni di voi si erano risvegliati e comprendevano chiaramente l'estrema importanza della natura. Madre Terra è stata gravemente danneggiata dalla perdita dei suoi boschi, paludi, pianure e degli spazi aperti sottratti dall'incessante espansione della vostra società. State ora raccogliendo quello che avete seminato senza riguardo la natura sta morendo. Le biodiversità, così essenziali al benessere del vostro mondo, stanno scomparendo, e una volta estinte, anche la vostra società si troverà in grave difficoltà. Chi controlla il vostro mondo, non sembra in grado di comprendere tutto questo o di prendere i necessari provvedimenti. Questa indifferenza assoluta costringerà i nostri alleati terrestri a rimuovere gli oscuri dal potere. Lo stato attuale del confronto tra gli alleati terrestri e la cabala oscura ricorda la fase finale di una dura corsa in salita. Entrambe le parti sono stremate, ma i nostri alleati terrestri hanno ricevuto la nuova forza, che li farà arrivare per primi al traguardo. Gli oscuri non intendono arrendersi attraverso i loro servitori continuano a predisporre nuovi scenari con l'intento di ritardare l'inevitabile. I nostri alleati terrestri, mantenendo il vantaggio, stanno attendendo il momento opportuno per sferrare il colpo decisivo, che deciderà l'esito finale. Alcuni eventi imminenti hanno il potenziale per creare una condizione critica. Il vero tallone di Achille degli oscuri è la crisi del sistema finanziario, che è ormai allo stremo. Quando crollerà porterà con sé tutto il resto. Nel vuoto risultante, potrà essere presentato senza ostacoli il nuovo sistema finanziario e la necessità di introdurre un nuovo sistema di governo. I governi di transizione rivedranno l'organizzazione del vostro mondo e metteranno fine a tutte le menzogne dei pseudogoverni. I governi del vostro mondo hanno bisogno di comprendere la necessità di interpretare correttamente i diritti inalienabili di ogni cittadino sovrano. Tali diritti costituiscono le basi della società galattica. Nella dichiarazione di indipendenza americana i maestri Ascesi fissarono queste basi e chiesero che i governi fossero in grado di esercitare questi principi. Saint Germain intendeva far diventare l'America un faro e una vetrina per diffondere questi concetti, ed è una vergogna che la schiabitù sia stata mantenuta con lo scopo di ottenere l'approvazione degli Stati del Sud. Nonostante questo, tale documento mantiene la sua validità nel sancire la sovranità individuale e il ruolo del governo nel conservarla. Il XVIII secolo era appena iniziato quando vennero introdotti e applicati tali principi, ma furono necessari alcune sfumature complementari per renderli veramente efficaci. L'idea, che rimase fuori dalla portata mentale di coloro che si dilettavano nella teoria e nella pratica di governo, fu l'esigenza di creare un soggetto di potere con sufficiente autocensura e motivazione, nel difendere i cittadini da tutti gli assalti contro i loro diritti naturali. L'idea iniziale era una repubblica. Poteva essere una semplice confederazione o, in alternativa, una composta da un corpo centrale, dotato di alcuni poteri, che consentivano di interagire tra semplici confederazioni di Stati sovrani. Ogni Stato, a sua volta doveva essere il difensore dei diritti di ogni cittadino. La questione fondamentale era come legiferare e come giudicare, e questo problema è ancora attuale. L'aumento di consapevolezza ha riportato sotto i riflettori questa questione irrisolta e, dopo secoli, i diritti negati sono ora ritenuti inaccettabili da una umanità risvegliata. A tutto questo si aggiunge la promessa di abbondanza. Una prosperità universale potrà ridistribuire il potere all'interno della società, ma questo introdurrà anche la necessità di informare tutti sulle verità che vi circondano. Il sistema pubblico di diseducazione e la palese manipolazione dei mass media hanno portato la popolazione a ricercare e a poter accedere a delle nuove informazioni, che siano veritiere, e che portino alla soluzione delle molte e urgenti minacce globali. Siamo fermamente intenzionati a soddisfare questa vostra necessità fornendo i fatti e le prove circa la vostra e la nostra società. Mentre ci si sposta verso la piena coscienza il concetto di sovranità personale, sarà posto in primo piano. In un clima di aperta discussione, si potrà decidere il modo migliore per avviare la vostra società globale verso il suo futuro luminoso. Oggi abbiamo affrontato i progressi in corso su una serie di fronti. Abbiamo richiamato la vostra attenzione su alcune questioni chiave, che ci auguriamo possano stimolare il vostro senso di libertà ormai assopito. Si avvicina, per la vostra società, il momento di andare oltre il contesto attuale e diventare il prototipo della vostra nuova società galattica. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e la infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayun. Selamat Yah, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003